Elena Rubatto adesso ci deve dire cosa pensa di noi e di questo progetto. Elena, ti presento l'audio. Buonasera a tutti. Il mio intervento sarà lungo dall'essere valutativo, a parte che ci siamo già parlati ampiamente, ma comunque mi presento. Sono Elena Rubatto, sono un medico di famiglia di Torino, attualmente ancora non titolare, non convenzionata, anzi attualmente in prestito all'ospedale in un reparto Covid. Dunque, io sono stata contattata da Maria Angela a gennaio e il motivo principale per cui, devo dire, mi sono un po' innamorata di questa iniziativa e comunque sono stata coinvolta dall'entusiasmo e che mi ha colpito molto il fatto che questa proposta nascesse da un percorso fortemente radicato sul territorio e nella popolazione locale. Questo è, dal mio punto di vista, fondamentale, per molte ragioni, ma la cui principale è che una delle funzioni principali delle cure primarie è proprio quella di essere prossime ai bisogni della popolazione, ma non della popolazione in generale, cioè di una popolazione specifica che vive un territorio specifico, perché all'interno di una grande città come Torino ogni quartiere, ogni zona ha problematiche diverse. E questo è ancora più importante da tenere in considerazione poi nell'organizzazione del servizio stesso. Cioè il grosso problema, dal mio punto di vista, ma non dal mio punto di vista, diciamo guardando anche alla letteratura esistente sulle cure primarie, il grosso problema è che l'organizzazione di un servizio di cure primarie non è facilmente standardizzabile, proprio perché deve essere pensata, deve essere anche probabilmente riorganizzata nel tempo in base al mutamento dei bisogni di salute. Diciamo che il problema più grosso, come diceva anche Chiara prima, è che le cure primarie in questo momento, l'assistenza territoriale ha perso di risolutività. È stato dimostrato in questo anno, è stato molto evidente, ma lo era anche prima. La perdita di risolutività poi si, diciamo, si ripercuote ovviamente sul congestionamento degli ospedali. Il problema è come si fa a essere risolutivi in una società i cui bisogni di salute sono molto aumentati non solo come quantità, ma anche come complessità. Abbiamo da una parte una popolazione sempre più anziana, dall'altra un aumento di malattie croniche, ma anche e soprattutto una vulnerabilità sociale che è sempre più pronunciata, delle reti sociali che sono sempre più fragili, soprattutto per le persone anziane. Devo dire che per me è stato molto utile, è molto utile l'esperienza che sto facendo in ospedale adesso, perché mi rendo proprio conto di quante persone alla fine poi istituzionalizziamo, solamente perché il ricovero ospedaliero le ha rese talmente fragili da non poter più tornare al domicilio. E questo è un problema assistenziale enorme. Quindi, qui vengo alla casella salute. Un'osservazione che vorrei fare è che sento troppo spesso l'equazione casella salute medici di base. Allora, la casella salute nell'ottica di un'equipe di cure primarie multiprofessionale è, diciamo, un luogo fisico e funzionale dove certamente stanno i medici di famiglia, ma dove per poter prendere in carico in modo, diciamo, globale e continuativo i bisogni, non possiamo pensare solo alla figura del medico, né di base né specialista, cioè certamente ci vanno, ma come è già stato detto già da Guido e anche da Chiara Rivetti, è necessario che la casella salute si identifichi proprio come un'equipe interprofessionale che lavora insieme dove abbiamo bisogno sicuramente di infermieri perché per l'assistenza domiciliare soprattutto servono medici, sì, ma serve tutto un apparato assistenziale che sono gli infermieri che sono anche gli operatori sociosanitari, per esempio, gli assistenti domiciliari, i terapisti occupazionali, cioè ci sono una serie di figure professionali che non esistono o che comunque sono sottoutilizzate nel servizio sanitario pubblico e che sono quelle su cui si fonderebbe in teoria l'assistenza anche domiciliare. Sicuramente abbiamo bisogno di psicologi, di fisioterapisti, di tantissime figure che servono per prendere in carico i bisogni a 360 gradi. Quindi appunto su questo è importante, diciamo, lo sento spesso, l'equazione. Mi dice, mi sembra di casa della salute. La casella salute è una cosa molto più complessa e deve comprendere tutto quello che è stato nominato, cioè dal servizio sociale ai servizi infermieristici, all'assistenza sanitaria e anche l'assistenza domiciliare. Cioè la casa della salute deve essere il luogo dove la persona dagli zero ai cento anni in teoria potrebbe essere accolta, presa in carico e trovare un professionista che prende in carico il suo problema e trova il modo di risolverlo. E per questo serve creare delle reti. Cioè il problema è che nel nostro sistema i professionisti, i servizi ci sono, ma non si parlano e non c'è connessione. Non c'è connessione tra i medici di base e gli altri servizi, non c'è connessione tra l'ospedale e i servizi territoriali. Allora la sperimentazione di un luogo come il Maria del Aide, secondo me, può servire a creare delle reti che non esistono al momento. E una proposta che mi viene da fare, che abbiamo già proposto anche in un altro progetto, è quella che ho visto sperimentata in una casa della salute di Ferrara, unitamente all'ospedale di comunità a cui anche io sono molto favorevole, e quella di un cosiddetto tavolo dei casi complessi. Cioè una sorta di tavola rotonda che può essere fisica e funzionale, nel senso che poi la connessione non è detto che debba avvenire per forza fisicamente, ma un tavolo di professionisti a cui si possono indirezzare, sia dal territorio che dall'ospedale che dagli altri servizi, i casi, i pazienti, le famiglie più complesse, per cui è necessaria una discussione interdisciplinare per trovare un percorso di cura. E questa è un'altra cosa, un altro servizio che potrebbe essere proposto come sperimentazione. Detto questo concordo che il progetto è bellissimo, ma molto ambizioso e a volte quando si mette troppa carne al fuoco poi si rischia che venga poi dalle istituzioni preposte rifiutato tutto, perché è poi definito come troppo oneroso, come troppo complesso. Quindi mi chiedo se forse anche strategicamente, a livello strategico non possa avere senso magari proporre degli step anche solo, cioè qual è la cosa più urgente. Basta, direi che poi se ci sono altre cose approfondiamo dopo.